Adesso Messi, circa in fondo, Sanchez, che è un tocco di riconoscenza, ci si trova però Leo Messi, Busquets, alza Busquets, alza Busquets, alza un minuto, minuto appena, la scena di Alba, l'estra di stessa, il reggiatore del Barça, Sergi Roberto, Sanchez, poi passa in ritra, e frenazione di ripartenza del Barça da Iniesta, eccolo Sergi Roberto, alta, 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 una fallo anche lui, a 45 secondi dalla fine, può essere forse il momento decisivo di questo match, ma, no, non credo, per l'intervento di Fuentes su Sanchez, ma ha concesso penalty, questa circostanza cross Gomez, ora questa notte la cabina media di abanilista voglio vedere la cara di Romquero il specialista di AS mi marido oye la cabina mediattica quando perde il marido io quando perde il marido compro il marido e lo guardo e che ora è che si stermina dal partito madre mia perfetto quest'oggi molto bene si riprende la meta della classifica e vola più 2 sull'atletico madrile a più 5 sulle reale a quota 75 in classifica bueno ti invitamos a Vara a tomare una meta si vale? vale, vale, perfetto e che non ci hai lasciato vedere il partito e che abbiamo vinto